Il sole sorge alle 6.59 e tramonta alle 19.14. La luna si leva alle 18.23 e cala alle 3.58. La fase è la luna in primo quarto. Secondo la tradizione, Fiorenzo è fratello di San Floriano, martirizzato nell'attuale Austria nel 304. Sfuggito alle sue guardie, come Pietro, giunge in Gallia, dove San Martino lo ordina sacerdote. Successivamente si ritira nel territorio di Poitiers, in Francia, dove caccia i serpenti e compie miracoli, prima di morire a 123 anni. Qui fonda l'abbazia del Monte Glonna, situata su un costone che domina, il fiume. I monaci veneravano Fiorenzo, di cui si ricordano le molteplici traslazioni delle reliquie. Sasso che rotola non fa muschio.